Allora l'uno vuole l'altro. Sciopero dei benzinai a macchia di leopardo ad Agrigento. Non tutti hanno aderito alla protesta indetta dalle organizzazioni sindacali del settore. Molti distributori nella città dei Templi non hanno nessuna marca, pertanto da questi si può comprare sia la benzina verde che quella diesel. Il tavolo delle trattative per scongiurare comunque lo sciopero ha fatto registrare fumata nera ieri perché i petrolieri hanno chiuso ogni spazio di trattativa e il governo non è riuscito a trovare una via d'uscita per scongiurarlo. Lo sciopero dei benzinai è l'ennesimo di una lunga serie. Ormai in Italia non passa giorno che non ci sia qualche categoria che si vede costretta a scendere in piazza per rivendicare i propri diritti. Un paese arrotoli ed è questa la sensazione che si respira tra i cittadini agrigentini. Se lo scorso Natale era stato grigio, quello di quest'anno è ancora peggio. Prendendo in prestito uno dei titoli dei film attualmente in sala, possiamo dire che è il peggior Natale della nostra vita. Non poteva mancare quindi il grido di protesta dei benzinai. Ma cosa ne pensa la gente di questo ennesimo sciopero? E' di bruciarla tutta l'Italia, compreso noi che stiamo all'impiede per ora perché non ci sono uomini più degnitosi e coscienti. Perciò è inutile parlare dell'Italia, perché l'Italia l'hanno messa, non fanno precisi, hanno rubato tutto e ancora saccheggiano tutte le cose. Siamo sempre in punto da capo, andiamo sempre avanti come tanti pecoroni. Ce lo sciopero e continuiamo a mettere benzina. Quando ci dobbiamo fermare tutti quanti in Italia. Io stamattina sono venuto a fare benzina, ho trovato la fine e mi sono accodato, che sono zero fisso. Grazie a tutti, grazie a tutti.